Per me i commons sono in qualche maniera un mettere a disposizione di più persone possibili dei beni comuni e questi beni comuni, nel caso di quello che faccio io, sono materia intellettuale, sono conoscenze, sono informazioni e renderle disponibili senza nessun vincolo, senza nessun legame legale, procedurale, di qualche tipo. Grazie a tutti.